eccoci finalmente vi mostriamo la nostra casina questo che vedete è il nostro ingresso questa è la porta d'ingresso e subito di fianco alla porta d'ingresso ho voluto posizionare questo banano qui finto purtroppo vero non avrei potuto metterlo perché cresce tantissimo quindi ho optato per un banano finto e subito di fianco ho messo questo cestino dove noi riponiamo le ciabatte in modo che quando entriamo in casa abbiamo subito la possibilità di togliere le scarpe e di mettere le ciabatte per una questione di igiene e come vedete l'ambiente si sviluppa subito nel soggiorno infatti la protagonista diciamo di questo spazio è questa bellissima e grandissima parete dove noi abbiamo deciso di mettere questa carta da parati che arreda tantissimo e da tantissima luce e anche per questo tutto il resto dell'ambiente come vedrete è abbastanza minimal non abbiamo voluto riempirlo con troppo arredamento con quadri e con soprammobili che io non amo neanche quindi l'ambiente è abbastanza minimal tre virgolette questo è il nostro soggiorno quindi vedete il divano e la magia con sopra la televisione magia che ho voluto comprare ho voluto fare con i piedini perché io amo pulire in maniera molto minuziosa il pavimento quindi ho cercato di fare tutti i mobili sospesi in modo da poter arrivare sotto con l'aspirapolvere con il vaporetto e pulire bene sopra la magia come vi dicevo pochissimi soprammobili perché a me non piacciono ho messo giusto uno svuotatasche dove mettiamo le chiavi di casa o della macchina un altro piccolo svuotatasche che mi ha regalato la mia migliore amica che vive a londra dove io posiziono tutti i miei anellini che tolgo la sera prima di andare a dormire questa piantina tropicale che ci hanno regalato le colleghe di simo quando sono venute a trovarci e questo vasettino ciotolina con dentro dei cioccolatini che ci hanno regalato a natale dall'altra parte della magia ho voluto mettere il nostro album del matrimonio perché trovo davvero bello emozionante ogni tanto risfogliare l'album guardare le immagini di quel giorno cosa che non sarebbe possibile se messo all'interno di un mobile e dimenticato quindi mi piace tenerlo qui in bella vista vicino una piccola scatolina con all'interno delle candeline che mi servono quando voglio accendere appunto le mie tart all'interno di questo piattino dove poi ho messo qualche piccolo elemento decorativo qualche candelina che a me piace spesso accendere questa clessidra carinissima che ho preso da maison du monde e poi di fianco alla magia questo cestone in vimini dove all'interno abbiamo 7 mila coperte che ci piace utilizzare sul nostro mega divano la sera quando guardiamo la tv quando guardiamo netflix abbiamo voluto un divano abbastanza grande con penisola ma la cosa più bella di questo divano è che si apre e diventa una sorta di divano letto quindi finalmente tutti e due la sera abbiamo la possibilità di stenderci di allungare le gambe e di stare comodi un'altra comodità di questo divano è che al lato a questi tasconi dove poter mettere il telecomando della televisione dove poter mettere dei libri delle riviste quindi tenerli lì in ordine e a portata di mano e poi un altro valore aggiunto secondo noi per questo divano sono i poggiatesta reclinabili in modo da poter stare il più comodo possibili lasciandoci il divano alle spalle vi faccio vedere che abbiamo una finestra e abbiamo deciso di incassonare le tende nel controsoffitto in questa zona qui del soggiorno abbiamo voluto dare un po di movimento all'ambiente facendo questo lavoro qui con il cartongesso e non abbiamo voluto mettere lampadari in tutta la casa abbiamo messo i faretti un solo lampadario lo abbiamo proprio in questa parte qui della sala ed è appunto la parte dove c'è la tavola non avendo la cucina abitabile abbiamo messo questo tavolo qua proprio di fronte alla cucina che tra un po vi farò vedere abbiamo scelto anche qui di arredare molto con questo tavolo con le gambe così particolari con questa forma geometrica e poi non abbiamo scelto delle normali sedie ma abbiamo scelto queste poltroncine che sono molto comode molto belle anche esteticamente da vedere però dobbiamo stare attenti a non sporcarle perché altrimenti diventa un pochettino più difficile pulirle però siamo molto contenti della scelta che abbiamo fatto in questa piccola nicchia che c'è qui ho voluto mettere questo vaso con all'interno le foglie di pampas che sapete sono le mie preferite mi piacciono le trovo molto eleganti molto sobrie e poi in questa porta qui scorrevole all'interno troviamo la cucina la cucina come vi dicevo prima non è abitabile però abbiamo cercato di sfruttare al meglio tutto lo spazio per renderla funzionale il mio sogno era quello di avere tantissimo piano d'appoggio dove lavorare sapete che a me piace tantissimo cucinare e quindi per chi ama cucinare lo spazio in cucina non è mai abbastanza però stiamo molto contenti di come abbiamo sfruttato tutti gli spazi da questo lato qui ci sono le due colonne dove ci sono incassonati il microonde il forno microonde qualche pensile dove dentro mettiamo alcune robe e poi avete visto la colonna del frigo e del freezer questo è il nostro lavandino abbiamo scelto di non mettere lo sgocciolatoio perché personalmente non mi piace e come vedete non è in alluminio ma in questo materiale che si chiama fra granite molto più bello esteticamente da vedersi ma un pochettino più difficile da tenere pulito sopra il lavandino abbiamo messo questo pensile dove ovviamente mettiamo i piatti i bicchieri lavati e sono poi quelli che usiamo quotidianamente e poi abbiamo voluto mettere anche questa tenda qui a pacchetto in modo appunto da avere sempre tantissima luce all'interno della cucina la parte centrale sopra i fuochi è la parte dove è nascosta la cappa e in questi piccoli spazi ho pensato di metterci la carta da forno piuttosto che i sacchetti gelo insomma alcune cosine che servono in cucina la friggitrice ad aria lì nel mio angolino pronta per essere usata e poi i fuochi abbiamo voluto prendere dei fuochi un pochettino più grossi infatti sono a 5 questo proprio perché a me piace sempre cucinare e nell'altro angolo del piano di lavoro ho ricreato un po lo spazio con le spezie frullatori la macchina del caffè insomma gli elettrodomestici di uso quotidiano una particolarità è quella del forno abbiamo scelto questo modello di forno che permette di effettuare una doppia cottura infatti come vi ha fatto vedere simo si può aprire o solo in una piccola parte oppure si può aprire completamente tornando nel nostro salotto l'altra porta bianca che avete visto vicino al banano da sulla zona della lavanderia anche in questo spazio abbiamo cercato di sfruttare ogni singolo centimetro facendoci costruire su misura questi mobili qui vedete e arrivano fino al soffitto e all'interno di tutti questi mobili abbiamo messo le coperte i piumoni cuscini tutte quelle cose che solitamente non sappiamo dove mettere abbiamo creato questo piccolo piano d'appoggio dove al momento ci sono le borse ma presto spariranno e per quanto riguarda invece le robe da stirare anziché tenere delle ceste sparse per casa abbiamo deciso di creare un cassettone dove abbiamo messo quelle e un altro cassettone dove mettiamo tutta la roba da lavare di fianco abbiamo creato questa colonna dove abbiamo nascosto all'interno l'asciugatrice e la lavatrice in modo da non averle all'interno dei nostri bagni perché portano via tanto spazio non sono neanche esteticamente tanto belle quindi abbiamo deciso di chiudere tutto quello che concerne la lavanderia all'interno di questo spazio che esteticamente io trovo molto bello anche molto ordinato di fianco alla colonna poi avevamo ancora altro spazio e abbiamo deciso di fare una serie di mensole che adesso sono ancora un pochettino incasinate ma ben presto arriverò anche qui a sistemare tutto e c'è un po di tutto ci sono i panni per dare la polvere i detersivi della lavatrice che Simone mi continua a comprare lo spazio dove riponiamo il nostro Dyson e dove riponiamo il vaporetto ma presso qui creeremo anche un piccolo angolo dove attaccare i nostri giubbotti e la borsa la porta che troviamo di fronte è la porta del mio bagno il mio bagno è quello più grande più spazioso rispetto all'altro che abbiamo nella casa e come vedete anche qui ho voluto fare dei mobili sospesi così come i sanitari sospesi alla porta per sfruttare lo spazio ho voluto appendere la mia vestaglia per quando freddo i miei asciugamani per il viso l'accappatoio in modo da non dover forare non dover bucare le mattonelle del bagno o il muro una cosa che mi piace tantissimo nel mio bagno è questo gigante specchio retroilluminato che fa tantissimo luce e quando mi voglio truccare mi voglio preparare è veramente il top i sanitari sospesi e poi il mio box doccia che vedete molto spazioso molto grande e la particolarità di questo box doccia è che è aperto come vedete infatti questo modello si chiama walk in è senza porta quindi si entra direttamente così e all'interno del box doccia ho voluto optare per una mattonella diversa con questi disegni qui giusto per dare un tocco di particolarità all'ambiente ritornando in sala volevo farvi vedere tutte le luci accese in modo da farvi vedere bene il lavoro che abbiamo creato con il cartongesso da un pochettino più di dinamismo all'ambiente e secondo noi è quel valore aggiunto stiamo veramente molto soddisfatti di questa parte della casa di fianco alla cucina troviamo questa porta e da questa porta qui si accede alla zona notte la prima porta che troviamo è una porta scorrevole e come vi dicevo abbiamo un secondo bagno più piccolino ma molto funzionale perché anche qui abbiamo studiato al centimetro tutti gli spazi questo bagno è dedicato prettamente a simone all'interno lui è riuscito a mettere tutte le sue cosine abbiamo ricreato anche qui un box c'è veramente molto ampio molto spazioso devo dire che il suo è molto più comodo rispetto al mio anche perché ha un sciacquone anzi non so come si dice si dice sciacquone o comunque insomma ha il giatto dell'acqua molto più potente bello infatti un pochettino io lo invidio poi superando il bagno di simone troviamo altre due porte la prima porta aperta è quella di una cameretta che ancora non siamo riusciti a sistemare per bene ho solamente messo questo mobile dell'ikea che diventerà il mio angolo vanity abbiamo un piccolo balconcino e in questa stanza e un altro balcone grande che non vi ho fatto vedere nel soggiorno come vi dicevo in questa stanza qui al momento abbiamo messo alcune cose però è ancora da finire e poi l'ultima stanza che vi faccio vedere è quella della nostra camera da letto sì ragazze la nostra camera da letto è rosa e a simone è piaciuta tantissimo quindi non spaventatevi perché noi ci troviamo molto bene abbiamo messo questo grandissimo armadio che sfrutta tutta la parete scorrevole e poi il letto lo abbiamo voluto prendere con questa testata alta di questo materiale simile al velluto penso che si chiami alcantara e come vedete anche per quanto riguarda il letto ho preferito prendere un letto senza contenitore ma con dei piedini in modo da poter sempre pulire sotto il mio comodino è grandissimo gigante mentre quello di simone è più piccolino e per quanto riguarda lo specchio non avendo sufficiente posto dove appenderlo lo teniamo di fianco all'armadio e quando abbiamo bisogno lo tiriamo fuori all'occorrenza grazie a tutti